Poi potremmo creare un'offerta turistica penso unica nel mondo e voglio sapere appunto il prossimo signor Dago di Napoli come penserebbe di realizzarla quindi eventualmente facendo una cabina di regia coinvolgendo anche gli altri amministratori. Sulla questione turistica tema fondamentale è proprio quello della diciamo dell'integrazione dell'offerta turistica nel senso che oggi noi siamo c'è stata una stagione turistica molto positiva questa stagione turistica è anche legata al fatto che molti napoletani italiani molti napoletani non sono andati fuori perché chiaramente c'è stata una condizione contingente che è legata anche a covid chiaro noi questo la dobbiamo considerare come un'occasione per fare un'offerta turistica. integrata rispetto a quelle che sono tutti i poli turistici della nostra area metropolitana. Quanti vanno a Capri senza passare per Napoli? Noi abbiamo avuto tantissimi yacht che erano parcheggiati, erano ormeggiati, il Rada, Capri e molti grandi vitti internazionali se quelli si fossero fermati per due o tre giorni a Napoli avremmo avuto non solo una rigaduta economica ma una rigaduta di immagine straordinaria. però non ci hanno dovuto traccare oppure cioè quindi c'è una insomma questo è un tema fondamentale il tema dell'integrazione turistica sia fare sistema sia sia fondamentale. Grazie. Grazie.